E' lunedì e a Lecce in Piazza Palio c'è il mercato, o almeno una parte del mercato bisettimanale, perché la maggior parte dei commercianti con le loro bancarelle sono stati spostati in via Bari a causa dei lavori che hanno interessato Viale dello Stadio. Ma i lavori in quel tratto sono terminati, dicono i commercianti, e il sindaco ci lascia comunque in via Bari a marcire. Non lavoriamo più. In via Bari la clientela non raggiunge tutti, i più desistono. Il sindaco Perrone, con una ordinanza e con una successiva proroga, ha stabilito che le bancarelle restino lì fino al 10 luglio, ma i commercianti hanno paura che possa ulteriormente prorogarla. Per la decisione definitiva sul trasferimento bisogna aspettare la sentenza del TAR. Intanto i protagonisti di questa vicenda, diventata ormai una battaglia, ci illustrano tutto il loro disagio. Noi chiediamo intanto di far ritornare tutti in questo sito, perché comunque il sindaco non ha più ragione di prolungare l'ordinanza, perché i lavori sono già oltre l'area mercatale. Noi abbiamo mercoledì un incontro con la Confessa Esercenti per parlare proprio di questa situazione, anche perché venerdì è l'ultimo giorno utile. Speriamo che il sindaco abbia un po' di buon senso a far tornare tutti qua, anche perché là ancora il TAR non si è espresso, quindi se vogliamo essere precisi, là l'area mercatale non è a norma ancora, finché non si esprime il TAR. Quindi l'area mercatale fino al proprio contrario è questa, dove stiamo noi, vicino al palazzetto. Voi perché volete che anche i vostri colleghi che sono tutt'ora in via Bari tornino qui in Piazza Palio, quali sono i vantaggi di stare qui al vostro posto? I vantaggi è per tutti quanti, non è soltanto per noi, ma anche per gli altri. Cioè nel senso in cui stavano qua e si lavoravano un po' tutti, si lavorava. Di là invece chi sta facendo la fame, non stanno facendo nulla, c'è soltanto qualcuno che sta lavorando. Cioè la realtà è quella, la gente di là non vuole andare, non ci va. Perché secondo? Ha grossi disagi, ha il discorso dei posteggi, il discorso, che so, ci sono le scuole, per tante altre cose. Cose insomma che in qualche modo le sanno tutti. Poi basta intervistare persone che vengono qua, no io là non ci vado, troppo lontano. Persone anziane che devono prendere un po' di frutta, dico. Cioè come fanno? Dove lasciano la macchina? Da noi, da quella parte, noi smontisti, stiamo pagando un sacco di soldi, 22 euro, 28 euro e non ce la facciamo. Paghiamo 22 euro e prendiamo 30 euro. E allora è impossibile lavorare. Noi stiamo mantenendo solamente la famiglia, non ne abbiamo. Io sto in casa in appitto, fra poco mi dà la luce, non so cosa fare. Mi hanno dato due giorni, dopo otto anni che sto all'angolo, ci hanno dato due giorni alla settimana che non si può lavorare. Ci siamo spostati poi in via Bari. Qualunque soluzione che ci possa portare via da qui sarebbe la benvenuta. Perché vi trovate male qui? Ci troviamo male perché non arriva la gente. Sembra strano che a distanza di 500 metri dal vecchio mercato la gente non arriva. Però è questa la realtà. Ma per mancanza di parcheggi o cos'altro? Anche, mancanza di parcheggi. Il mercato è diventato troppo lungo fuori dal recinto. Non abbiamo la clientela di passaggio. Abbiamo solo la clientela abituata. Quindi affari pochi e si viene qua a perder tempo.